Cosa significa per te essere tornato a Rimini e da essere tornato a Rimini da protagonista, da titolare chiave in mano della squadra? Sicuramente sono contento, mi sentivo pronto quest'anno per tornare a Rimini perché sono più fiducioso delle mie armi e di ciò che posso dare in campo, sicuramente non è un ambiente come per chiunque altro perché col nome che porto è una pressione in più, però ripeto quest'anno mi sentivo pronto per affrontare questa sfida e sono contento di poterla affrontare avendo un ruolo da protagonista. In quel momento ero stato molto in panchina, sono entrato a tre minuti dalla fine, però ho detto se entro voglio dare un contributo alla mia squadra per vincere, quel pallone e volevo giocarmelo io perché comunque volevo prendermi questa responsabilità e insomma grazie a Dio la palla è andata dentro e insomma è stata una buona mano per vincere. Partita dell'ex, in questi casi si chiede sempre se c'era qualche motivazione speciale, qualche sassolino alle scarpe oppure una partita come le altre, non lo so. No, è stata una partita, sicuramente quando sei l'ex hai sempre qualcosa in più, io a Forlì sono stato molto bene, però le stadie sono separate e sicuramente io rispetto ai miei compagni magari avevo un desiderio in più, un qualcosa in più per vincere, però sicuramente mi sono concentrato sui due punti.